Monsignore Grimaldi, un commento sulle elezioni di Torino per cui lei comunque si è speso? Intanto il dato drammatico della partecipazione deve farci riflettere, è chiaro usciamo da una pandemia che ha fatto da detonatore a tantissime disuguaglianze, ingiustizie e questo è l'altro tema, cioè Torino deve guardare avanti, non deve tornare indietro, deve se possibile migliorare i suoi servizi, lo spazio pubblico, a partire dai servizi dell'infanzia, dobbiamo rendere questa città prima di tutto una città che metta al centro la qualità dell'aria, la qualità della vita, a partire comunque anche dal grande tema dei temi, cioè quello della disoccupazione, della deindustrializzazione e della sottooccupazione. Crediamo, visto che il centro-sinistra è in vantaggio, che questa città possa continuare a essere solidale, giusta, se è possibile in qualche modo ancora guidare una transizione ecologica che deve avere un segno. Per questo speriamo che nelle prossime due settimane l'attenzione resti alta e che Stefano Lorusso diventi il sindaco della città. Il sinistra ecologista ha fatto un grandissimo risultato, ha messo in campo una nuova classe dirigente, sono tantissimi i giovani e le donne, soprattutto elettone nella nostra lista e noi speriamo in qualche modo di aver unito giustizia sociale e giustizia ambientale proprio per una Torina che deve vedere tutto l'impegno civile possibile. Grazie consigliere. Grazie a lei.